200 pagine per tratteggiare il valore e la vita degli uomini del battaglione Val d'Adige, tra loro, tra il 1915 e 1916, anche Cesare Battisti. La pubblicazione nasce dall'impegno di Luca Antonioli, appassionato di storia militare. Lo studio parte da un volume già pubblicato negli anni 40 di uno dei comandanti del battaglione nel corso della Grande Guerra, il colonnello Ersilio Michel. Siamo partiti da quel testo, andando ad arricchirlo con alcuni punti, alcuni focus particolari su eventi e su personaggi che hanno caratterizzato la vita del battaglione. Il libro arriva poco dopo la pubblicazione per il centenario della presenza dell'Associazione Nazionale Alpini a Verona e vuole promuovere, attraverso la conoscenza della nostra storia, l'invito a costruire e a diffondere la pace. Il nostro centro studi ha continuato a lavorare per far conoscere la storia degli alpini perché la storia, abbiamo sempre ripetuto, è fondamentale perché conoscendo la storia si può anche ricavarne delle istruzioni e anche dei consigli e degli insegnamenti. Purtroppo stiamo vivendo, siamo angosciati in un periodo così difficile e quindi sembra proprio che la storia che noi andiamo a raccontare non sia servita a nulla. I nostri alpini hanno sacrificato le loro vite sui campi di battaglia e perché non si ripeta mai più raccontiamo questa storia. Porta alla luce l'umanità di questi nostri combattenti chiamati al dovere di difendere la patria, di testimoniare la loro italianità, di difendere fino in fondo con estremo sacrificio quelli che erano i loro valori ma poi soprattutto i loro affetti, le case, le famiglie e così via. Il libro è preziosissimo perché accanto ad altre testimonianze che sono state nella storia, insomma poste in stampa in qualche volume, qui entra proprio nel vivo della umanità di questi nostri combattenti del battaglione Valdadice. Grazie a tutti.